Le caratteristiche sono quelle di rilanciare le attività turistiche e paesaggistiche e ambientali del Monte di Colbordolo. Il Monte di Colbordolo è stato un luogo, nella storia era un monte tutto brullo, il sindaco di allora gli viene in mente di fare una piantumazione, quindi è un monte oggi tutto piantumato, di boschi eccetera e diciamo c'erano negli anni del boom economico, speriamo che ritorni, tre ristoranti, insomma era un luogo piacevole di aggregazione di persone che andavano, si è realizzato il circuito degli assi con Gimondi, grandi campioni del ciclismo attorno al Monte di Colbordolo con l'arrivo nel monte, quindi l'idea è ridare diciamo una centralità al Monte di Colbordolo che è uno dei punti più importanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e storico e culturale della città di Vallefogli. In secondo luogo, ma questo lo diremo a sé, presenteremo a breve un progetto di quasi 2 milioni di investimenti sul Monte di Colbordolo e Monte Faberi di depurazione e di metanizzazione, cioè di qualità ambientale delle zone collinari. Praticamente al centro c'è la valorizzazione del Monte di Colbordolo, un ambiente fantastico che purtroppo in questo momento di pandemia è stato in modo quasi naturale rivisitato dai cittadini del luogo. Si vuole valorizzare ancora di più mettendo al centro le famiglie e lo sport. In questo momento c'è una valorizzazione enorme delle bike, dell'andare in bicicletta, e grazie anche al discorso della pedalata assistita e delle bici elettriche molta gente si è avvicinata a questo sport e il Monte di Colbordolo con le sue altezze e la sua centralità vicino alla costa è facilmente fruibile da molti turisti e anche locali. Abbiamo pensato innanzitutto a un discorso a livello di sport perché durante questa pandemia, come abbiamo visto, c'è stata una crescita esponenziale a livello di acquisti di biciclette, la gente ha cominciato anche a riassaporare il territorio, quindi con passeggiate, trekking, queste cose qua, e quindi abbiamo pensato a questa cosa sia per i più piccoli, pensando di fare una pista apposita per bambini, per avvicinarli a questo sport e utilizzare vari percorsi che magari in passato usavano cacciatori, passeggiatori lungo i vari boschi della zona e quindi diciamo di far conoscere anche ad altre persone questi bellissimi percorsi immersi nel bosco. Poi abbiamo pensato anche di riqualificare l'area anche a livello turistico, visto che abbiamo la bellissima Urbino qui vicino, la bellissima Montefabbri come centro storico e ci siamo detti perché no creare magari un'area camper di sosta sul monte, un'area barbecue dove magari i turisti possono fermarsi o anche la gente del posto quando questa pandemia ci darà l'opportunità di riassembrarci tutti insieme e quindi magari, che ne so, cenare sul monte, approfittare magari di qualche chiosco, bar nella zona per stare insieme e respirare un po' di aria buona, dai, perché comunque qua siamo a 400 metri d'altezza, ci sono dei bei panorami e tutto qua.